A proposito di andate e ritorni, io sono appena arrivata da Trondheim, che è una città in Norvegia, per andare a parlare di trauma. Può sembrare un po' spaventoso, può sembrare un po' strano, se non fosse appunto che faccio la psicologa e dal 2015, quindi da più o meno quattro anni, lo faccio con una veste nuova, che è quella veste che mi ha permesso di andare sempre più verso sud, con il cappottino dell'operatore umanitario. Ma perché sono partita? Cos'è che mi ha fatto partire? Forse era appunto la ricerca della mia valigia su misura. Forse oggi non se ne è parlato tanto di valigia, ma la valigia in realtà è una parte fondamentale di un viaggio. Di solito, dopo aver prenotato il biglietto, prima di partire si prepara la propria valigia. Partirei dal 2015 più o meno, da quando mi sono autodiagnosticata una malattia terribile che non troverete su nessun manuale diagnostico, ed era la insoddisfazione da divano. Io non ne potevo più di stare seduta sul mio divano a guardare le cose che succedevano intorno a me. E mi faceva male essere ferma, immobile, andare avanti con la mia vita tutto sommato comoda e vedere quello che succedeva impotente. Allora ho deciso di trovarmi un rimedio. L'unico rimedio che ho trovato è stato il partire, il fare, l'agire. Le cose non credo che capitino in realtà per caso. Comunque, un sabato pomeriggio in agosto nel 2015 ero appunto sul mio divano in quanto sofferente di insoddisfazione da divano e stavo cercando su internet qualcosa che mi potesse aiutare a superare questa insoddisfazione. E casualmente o meno mi si è aperta la pagina di una organizzazione umanitaria che in quel momento stava proprio cercando uno psicologo che potesse andare in Sicilia a lavorare con le persone migranti. Ho risposto all'applicazione, ho fatto il percorso di selezione e sono partita. Viaggio verso la Sicilia, un viaggio sì verso sud, ma è un viaggio relativamente breve. Dopo la Sicilia sono scesa ancora un pochettino e sono andata in Burundi, che nella mia testa forse non sapevo neanche bene dove fosse, quando si dice va in Burundi. Forse in tanti non sappiamo neanche dove sia. Allora un giorno un mio collega, una volta in missione, ha provato a spiegarmi un pochettino la magia del suo paese e ha provato a spiegarmi dove fosse questo suo paese e ha fatto questo disegno. I Burundi effettivamente è molto più piccolo in proporzione nella realtà, però ha la forma del cuore e come dice lui è posizionato esattamente nel cuore dell'Africa. Ecco, io in quel momento, in quel piccolo paese mi sono innamorata e ho capito che il mio lavoro, insomma il mio percorso verso il trovare la mia valigia fatta su misura, forse forse era già un buon punto. Cosa succede però? Che a volte le valigie si fanno e si fanno male. Io nella mia prima valigia ero partita con innanzitutto una valigia, un trolley gigante che è già abbastanza scomodo, pieno di cose. Avevo messo i vestiti, le creme, i saponi, ma soprattutto avevo messo tantissimi libri. Avevo messo i manuali diagnostici, avevo messo tutti quei testi che negli anni di lavoro qui a Piacenza mi avevano supportato nella mia attività. Mi ero completamente sbagliata. Io fino al 2015 lavoravo a Piacenza, avevo lo studio in centro, da casa allo studio ci mettevo tre minuti in bicicletta e, a dire tanto, cinque a piedi ed era l'ideale. Sceglievo io a corario di avere i pazienti, molto comodo, senza fatiche organizzative. Mi ho deciso di appunto di partire con una valigia un po' più scomoda. Quindi la mia prima valigia più o meno era così. Libri, 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 libri. Perché nella mia testa c'era l'idea che tutto quello che avevo imparato fosse universalmente applicabile, che le diagnosi che per anni avevo studiato e applicato andassero ben ovunque. Quindi io non avevo fatto altro che impacchettare questo studio nella mia prima valigia e mi ero tremendamente sbagliata. Successivamente ho capito che tutti questi testi non erano poi così essenziali. Non era così essenziale portarsi tutta questa conoscenza e tutto questo modo di pensare, di vedere alle cose ad ogni spostamento, ad ogni missione. Quindi le mie valigie successive sono cambiate e dal valigione con libri, 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 sono arrivata ad avere un valigino, magari un po' più grande di questo, però con dentro palloncini, bolle di sapone, colori, festoni, oggetti. E quelli sono stati la svolta nella mia professione in quanto operatore umanitario. Come si impara a fare la valigia? Si impara con l'esperienza. Una volta uno parte, si porta mille cose, si rende conto che non tutte servono, allora poi la modifichi, togli, metti l'essenziale, smussi un pochettino. Quindi io ho cambiato la valigia, ho cambiato il posto e ho cambiato anche lo studio, che è diventato più o meno questo. Queste cose le imparate con l'esperienza. Allora vorrei magari raccontarvi qualche cosa di questa mia esperienza e vorrei partire da una paziente che è venuta, mentre stavo lavorando in Congo, nel nostro ospedale. Una bambina che aveva nove anni e si era presentata al nostro ospedale accompagnata dalla nonna e dalla sorellina di sette. Questa bambina viveva in una città, in una cittadina, molto lontana rispetto a quella in cui eravamo noi con il nostro ospedale. I suoi genitori erano morti entrambi a causa del conflitto che c'era in quei giorni nel Kasai, che è una regione del Congo. La bambina viene accompagnata dalla nonna perché dopo la morte dei genitori, un amico del papà ha preso le due bambine per accompagnarle dalla nonna a piedi per tanti tanti chilometri e tanti tanti giorni e quotidianamente, ogni singolo giorno, questo personaggio ha violentato la bambina di fronte alla sorella. Una bimba di nove anni. Voi immaginatevi come si potesse sentire questa bambina. Credo sia molto difficile in realtà da immaginare. E provate ad aggiungere a quest'idea che forse vi siete fatti, come si possa essere sentita entrando in ospedale e trovandosi davanti una strana persona bianca che non parlava una parola di ciluba, che è la lingua che si parla lì, vestita in jeans e maglietta. Allora, sicuramente per lei non è stato facile neanche questo. Allora, il nostro sforzo, l'efficacia di quello che abbiamo fatto con questa bambina è stato proprio quello di accettare che ci fossero queste differenze, di accettare che ci fossero questi ostacoli dettati anche dal fatto che non parlavano la stessa lingua e non abbiamo le stesse abitudini. La svolta nella nostra relazione terapeutica e anche nel percorso è avvenuta grazie a un pagna, che è il tessuto tipico buttato per terra, e alle bolle di sapone. Io sono andata avanti giorni e giorni a fare con questa bambina delle bolle di sapone. Allora, a noi possono dire poco o niente, ma provate, e vi chiedo davvero di farlo, provate un secondo a chiudere gli occhi, a dimenticarvi di sapere cosa sono le bolle di sapone e pensate che voi soffiate dentro un buchino, si formano delle palline trasparenti, che volano. Queste palline cambiano colore con la luce. Se le tocchi si rompono, ma non fanno rumore, ti bagnano solo un pochino. È qualcosa di magico, qualcosa di meraviglioso e per me queste bolle di sapone sono state una magia, perché sono state la cosa che ha permesso di arrivare con calma e con i tempi della bambina a un risultato enorme. Io se penso a questa bambina, ci penso col sorriso, per un semplice motivo, che siamo riusciti, attraverso le bolle di sapone, a farle sperimentare. Che cosa volesse dire essere bambina? A farle sperimentare qualcosa che per i bimbi è naturale, lo stupore, l'incredulità. Capite che bisogna un pochettino rivedersi quando ci si sposa, quando si fanno le valigie. Vorrei ritornare indietro un passettino con le foto. Vi ho fatto vedere il mio studio di Piacenza, vi ho fatto vedere un ipotetico studio, lì eravamo in Congo, però potrebbe essere ovunque. Questo per dire che la flessibilità e la fantasia sono qualcosa che non possono mancare, sono qualcosa che ci devono accompagnare quotidianamente, perché sono l'unica cosa che ci permettono di alleggerire le nostre valigie, che spesso sono troppo pesanti, sono cariche di oggetti spesso inutili, oggetti inadeguati. Pensate alle volte in cui siete partiti con i maglioni pesanti e poi magari c'erano 35 gradi. Quindi l'importanza è veramente quella di imparare ad alleggerire, togliere invece di mettere. E non si tratta solo di oggetti. Dovete considerare che ci sono certi paesi, all'estero ma anche in Italia, in cui ad esempio la medicina tradizionale e la magia hanno un ruolo fondamentale. Uno può crederci, non crederci, può essere critico o non critico, ma è importante saperlo, perché nel momento in cui ci portiamo a confrontarci con chi a queste cose ci crede, dobbiamo esserne consapevoli. Vi faccio un esempio rispetto a questo. In Burundi si è presentato un giorno un paziente che aveva tentato il suicidio. Questo era un uomo, un lavoratore, un padre di famiglia con un'enorme responsabilità sociale, che è quella che hanno molti uomini in molti contesti, cioè quella di non potersi permettere la fragilità, le necessità, il dolore. Quindi parlando con la famiglia era emerso che questa persona si era buttata da un tetto perché gli era stato detto, in forma di ordine, da una creatura che era appunto metà animale e metà persona. Per me poteva essere anche facile forse entrare gamba tese e dire guardate, non è così. Probabilmente il signore è depresso e può essere una conseguenza di questa sua patologia. Non sarà sicuramente stato la creatura mezzo uomo, mezzo animale a dirgli di farlo. Grazie al cielo non l'abbiamo fatto così. Grazie al cielo abbiamo ancora una volta alleggerito il nostro bagaglio e abbiamo fatto lo stesso lavoro che io ho fatto, lo stesso lavoro che avrei fatto a Piacenza. Semplicemente l'ho fatto senza dare un nome alle cose. Troppo spesso noi siamo, come dire, inquadrati nel voler dare nome alle cose, voler dare la precisione e questo non ci permette di ricreare delle mappe, ricreare dei significati. E questa cosa è una ricchezza fondamentale. Dall'Africa ho imparato in realtà più da casa riguardando l'Africa, che troppo spesso si pensa all'Africa come a un posto grande così, cioè tutti gli africani arrivano da un buchino di un metro per un metro, sono tutti uguali perché ovviamente non siamo capaci di riconoscerli, quindi per noi sono tutti uguali. Parlano la stessa lingua, hanno gli stessi miti, hanno le stesse culture, le stesse conoscenze. Ecco, in realtà non è così. Partire con una valigia vuota o comunque partire con una valigia piena ma sapendo che possiamo lasciare qualcosa là per poterla riempire di qualcosa di nuovo è quello che ci permette di scoprire che l'Africa non è quel metro per un metro, ma come immagino voi sappiate è un continente, è anche piuttosto grande. È un continente dentro il quale si parlano duemila lingue, ci sono tante religioni, ci sono tante credenze, ok? È un continente che è principalmente abitato dalle persone di colore, ma non per questo tutte le persone di colore sono africane. E qui vi faccio un'autoapertura che tecnicamente significa dire qualcosa di personale per aprire un discorso. Questi siamo io e mio marito. La mano di mio marito è chiaramente una mano di una persona di colore. Se io ci penso, credo di non aver mai incontrato nessuno che non m'abbia chiesto o che non abbia pensato, oh, chissà da quale parte dell'Africa tuo marito arriva. Mio marito arriva da Haiti, nel mare dei Caraibi, tutt'altra parte. Però, vedete, noi ci portiamo avanti queste valigie, questi vincoli che ci fanno vedere solo quello che noi ci vogliamo aspettare. Come vi dicevo, l'Africa è grande, l'Africa è piena di persone di colore, piena di persone bianche. L'Africa è un posto estremamente variegato. Come le persone di colore? Possono essere più scure, meno scure, sono pieni di sfaccettature, di sfumature. Si abbronzano, non tutti mangiano piccante, non tutti ballano bene. Ci sono delle capitali in Africa che per fascino, modernità, storia, non hanno nulla da invidiare alle nostre. Ci sono dei villaggi in cui non c'è internet, non c'è la luce, ma nel 95% dei villaggi o dei posti in cui si va, si trova una maglietta del Barcellona. Questo è per cercare di spiegarvi come le persone che noi incontriamo possono essere diverse, anche se noi cerchiamo sempre di dare delle categorie. Come io sono diversa da una persona di Parma, di Cremona, di Modonia, o un finlandese può essere diverso da uno spagnolo. Così succede anche per quelli che noi chiamiamo spesso gli altri, sempre cercando di dare una macro categoria. L'ultima cosa che vorrei condividere con voi è una cosa che mi manca tantissimo quando sono fuori della missione. In Africa i bambini hanno paura spesso dei bianchi. Come noi cresciamo col mito terrificante dell'uomo nero, loro crescono col mito terrificante dell'uomo bianco. Quindi a me manca, una volta scoperta questa cosa, a me manca tantissimo quando sono qui a Piacenza, che mi muovo per le strade, vedere queste ore di bambini che ti guardano stupiti. C'è qualcuno che è terrorizzato, piangendo, scappa, e invece c'è qualcuno che è curioso, ti corre incontro e che urla. Tu senti queste vocine che urano Musungu, 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 che è l'uomo bianco. Quindi io l'invito che faccio è, quando voi partite, quando noi partiamo, di mettere sempre nella valigia gli stessi occhi che hanno i bimbi quando urano Musungu, Musungu. Grazie.